A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vittis, soprattutto a partire da giovedì, tra giovedì e venerdì, ci sarà anche un calo delle temperature, ma intanto il tempo sta peggiorando anche sul nostro territorio. Come promesso quindi giungeranno anche delle piogge, avremo un mercoledì molto più movimentato, con dei rovesci di pioggia sparsi che aumenteranno la loro estensione nel corso della giornata, nevicate sull'arco alpino oltre 1000 metri, altrove invece oltre 1500-1700 metri, però vedete nella seconda parte della giornata le piogge tenderanno a guadagnare terreno anche verso i settori di pianura. E a tratti avremo dei rovesci anche di moderata o forte intensità. Quindi un mercoledì che vedrà un generale peggioramento con neve sui rilievi e piogge, rovesci di pioggia, in particolar modo tra il pomeriggio e la serata, anche su zone di pianura. Prepariamoci quindi ad una giornata piuttosto perturbata. Per il momento è tutto, cari amici, buon proseguimento, arrivederci.